Hey guys, qui il vostro JamiGamer e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Fortnite Oggi non sono solo, ma sono in compagnia con alcuni membri del mio team E sono questi qua dietro di me Abbiamo Vale, Saeta e Vale, te salutate ragazzi Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Bene, oggi siamo in creativa perché da quello che Saeta vuoi dicerlo te esattamente perché sono qua Ragazzi siamo in creativa per fare un video, ragazzi mi facciamo vedere una bomba di macro Un video straffo di angolo Diciamo che noi abbiamo saputo di una mappa davvero strana Dedicata esattamente a un video, proprio a un gioco e anche qualcosa di genere E voglio vedere in video Cos'era ragazzi? Cos'era? Questa è la bomba Comunque a proposito se vi ricordate anche di Violet e quella che ha fatto il probino Se non avete visto con il video mi raccomando a datelo a vedere il link di descrizione Allora io ci terrei a precisare Scusa, scusa Però ci terrei a precisare che questo video non ha pubblicità sul gioco? Ah sì certo, ovviamente, è come se praticamente già uno soppressi Allora ragazzi mi raccomando se volete vedere altri video di questo genere dobbiamo arrivare almeno a 10 like per un prossimo video di questo genere Mi raccomando fatemelo sapere nei commenti se li volete anche in compagnia del mio team Bene, quindi detto questo è subito di iniziare Ok ragazzi eccoci qua subito nella mappa Allora si tratta di una mappa dedicata a Veneditrici Volevo la... la conoscete la... il gioco Veneditrici mi pare Sì Però la mappa non la conoscevo La mappa non la conoscevo Vengo lì a casa vostra mi ammazzo Ok, va bene Questo l'ho sentito, ciao Paiole Va bene, comunque... direi che stanno subito pronti Dobbiamo soltanto aspettare 33 secondi Mamma mia Ok ragazzi, ma è iniziati secondi più lunghi della mia vita Guarda Ok, ok, è iniziato Secondi, raga Meno male, dopo questo parlare iniziamo subito Mi chiamo da solo, io ne mi vedo Ok Ah, ragazzi Ma non hai detto... non hai detto come si chiama il tuo canale sono sempre io allora sono un sopravvissuto mi pare perché c'è scritto che è l'impostore e noi a casa non c'è l'impostore del successo nome sa che vedo valet vedo valida che male fidati ragazzi sono io ragazzi trovo l'attivatore a percezione sono io allora praticamente la sua prima praticamente hanno ricaduto la ma non proprio uguale ma l'anno fa hanno fatto una mara di venerditerici e tutto quello che dobbiamo fare come nel gioco di venerditerici sopravvive raggiare sono che adesso i consumi e ci hanno la caccia si va effetto sì avevo detto che stai appunto perché io non lo vedo io non lo vedo mi sono accorto ora che non lo vedo e non lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo io non posso dire niente già a me ma che cosa sono ste monete che trovi in giro io la trova dei 10 cosa è vero monete che trova in giro ha forse ho capito cosa servono qua c'è una case station una specie di fluss boss ha avvitato faccio la mappa potete anche per amata per vedere messa che il questa cosa qua queste monete che tutto aveva le servono per queste armi qua secondo me questo che mi sa che saranno una messa che questo è l'armamento di tommy jarvis e qui c'è anche la pistola allora non ho capito molto bene alcune cose ma da quello che so che sappiamo già tutti che dobbiamo praticamente scapparci da questo posto e se sono sempre vari modi come scappare con una macchina o anche chiamare la polizia mi pare e poi non so come chiamare tommy jarvis c'è per caso la stazione madonna che cazzo mi ascolta io venerdì 13 lo meno se non avviani sono la macchina memoria ok va bene era ben tutto questo è preso che vogliono letto vedi subito vedi subito lui sarà quella parte che sarà quella parte però poi erano i capetti dove sono io tu sei dall'altra parte ho visto il solito di te perché sto provendo perché sto provendo e con vicino a una tua camera ok io so meno male che lei maggiore animato ma basta scappando ci fa certo lo qua posso usare per no butta e hanno ingannato ho preso un infarto mamma è vero che lo fa diventare invisibile saravano lo youtuber è vero che lo fa diventare invisibile cacchio me l'ho dimenticato sta cosa tu non mi vedi più sono invisibile per sempre cos'è quello io ho forse trovato qualcosa di strano che tipo l'ordigno ho trovato l'ordigno l'ordigno ma te dove sei scusa c'è quel tempo che mi stai seguendo da ore e anche invisibile per cortesia potessi dammela mano poi per sempre ma facciamo una cosa io tu mi risparmi e ti dico dove sta vale ok dai non vede il bullismo dove vale dai dimmi eh laggi in fondo eh praticamente sta dietro in te dai hai rotto le palle ti prendo queste cose ma dai hai rotto ma vabbè che mi devi rompere le palle inserita guardi oddio ma perché si infatti sei rimasti solo tu vale sei rimasti solo tu voi vedete vale giusto palle guardi allora intanto devi cercare di sopravviventi che cosa c'hai in mano allora ho un ordigno e un attivatore a percezione un ordigno ok no no raga ma voi non potete capire io sono passato a fianco a una camera di setta me l'hai appena detto dove sei bravo un genio eh però tu non sai quale devi stare zitto allora sai quale mania sei nata nella è vero no eh stai sì lo sai sì ma dov'è siccome lei può fare star anche così eh sì bella idea ma sempre camperato non va bene però sì ma camperato dai raga ma non la vince raga non la vince dai tu un uomo tu un uomo vado via devi essere un uomo quindi devi combattere con il tuo nemico quindi affronta jazz almeno per una volta bravo franti ai miei le perte solo le lame vai via boh picco tutte le carattine oh ma la camera B la camera B no l'ha capito ma si mi nasconde la stupo con la camera B la camera B la camera B mi bebe seetta sì sappi che sì sei qui è qua sei messa che lì sai qui fai cagare non sei qui fai carare comando ma no ma è solita l'ha capito non sei te l'avevo detto io mi sono impegnato per niente per te dai complimenti veramente ok la seconda partita vediamo un po no 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 basta no raga non ci credo sono jason andiamo a cercare i piccoli bambinelli anzi piccoli come come di per me ho trovato che fare no raga me lo giuro io pensavo vabbè ancora campeggiatore ma cacchio ma lato questa possibilità di essere come dell'armi ci mi abbia svegliato qualcosa che ho capito comunque per caso qualcuno qui cazzo qualcuno ha aperto con la porta c'era un giorno ho chiamato qualcuno un fuso un fuso lo riavviato è una volta un giammi che non riscari poveri giovin celli perché era morto perché l'avevano buttato fuori senza motivo valido vieni vieni ma dove sei allora so che metterti nel bagno con me sei un po' no ho capito aspetta un attimo l'ho appena detto non è che siete fossi qualche passaggio segreto ci sono tre miliardi di bagni io sto nel cesso cosa? perché te la stai facendo sotto forse vieni allora posso spiegare non è come sembra aspetta anche con te posso spiegare non è come sembra dai 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 vatemi l'undizio non riesco a trovare ahahahahahahahahaha già mi che ti sta perdendo all'imperdibile raga guarda mi sto perdendo quello che state facendo in questo momento raga dammi poi ti mando la forza allora no 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 aiuta aiuta voi ci dobbiamo dove sei dove sei aiuta aiuta c'è qualcuno ne son sicuro e dentro di me e non ho la vaga impressione che sei stato stato schiatta stai facendo filtra stai facendo filtra se non avete capito guardate dove siamo nella mappa non mi dire che non mi dire non mi dire arriva la polizia tra poco seguimi secondo appunto arriva la polizia quindi questo significa che praticamente devo ricami subito dalla polizia si fa lo stiamo creando non ti permette di andare la chiamo che se non sei morto salita sei morto mi dispiace salita poi è arrivata mi dispiace ma mi piace queste cose adesso che c'è non sono il nuovo io ho visto qualcuno non posso dire chi guarda un po chi c'è guarda un po sempre io sempre io io so che male non li seguo salita stavolta addio ma allora fai schifo vabbè a me mi portate che almeno uno l'ho ucciso ma allora fai che garcemi ero anche fermato e chinato quella lì è quella che sta dall'altra parte è violette quella che c'è la camera di quindi mi sa che saetta è quello lì davanti che sta la gas station la gas station vero gianni la prossima volta la prossima volta io ti dicevo dove era la gente gente sente guarda ho detto ma io sono hai vuto tanto hai vuto aiuto vieni qua 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 tu puoi farce la tu devi farcela tu puoi farci la tuoi oh nooo tu sei molto presto il holders Ti dico dove l'alto? Ti dico dove l'alto finita di video Ma tanto dopo ti rianima Ok, te lo dico se vuoi E te lo dico E molto, allora me sa che sta Forse alla camera B forse Vabbè, allora intanto vediamo un po' Dov'è Violet? Si è passata accanto e non ci credo Come si è passata a fianco? Si Esattamente No, ma davvero Forse ho capito dov'è Forse so dov'è Non è che sembra una scuola in qualche angolo Della mappa dove non è visibile No, è hashtag Hashtag sei tall Hashtag sei tall Sei qua, vero Intanto cosa ho fatto? Ho fatto il taglio Allora No, ho fatto un passaggio segreto Come faccio a risalire a mo' Ah, ecco qua posso risalire Non sei nel passaggio Non sei in questo passaggio segreto Strano Ci ricorri quando abbiamo giocato a bordi Ma tutti Non so se ti rendi conto dove sono Io sono nella camera E Nella camera E No, no Nella camera E È più in basso Mi stai ancora raccontando Mi stai ancora raccontando bugie Allora Sono vicino alla fuse box Della Hiles Davis 5 A sinistra c'è una capanna La vedi quella capanna lì? Ecco Io sono lì Porca miseria Dentro un cesso Nella capanna Oh madonna Non mi dire Oh santo c'è una Non vorrei dire che No, aspettate È vero No, qui tu c'hai entrato Qui io c'ho entrato Prima Sono qui Sì, sono qua Fidati No, io non Mi stai ancora raccontando bugie Sta arrivando la pulizia Sta arrivando la pulizia È nel cesso Aspetta È nel cesso Ho capito che è nel cesso Aspetta È nel cesso Ma non quello lì di casa Quello fuori No, vabbè No, è ancora lì in realtà Però, beh, infatti Non l'ho ancora finito Ancora al bagno È ancora al bagno Non ti posso non credere Ancora parla del bagno Ma non c'è nessuna capanna Qui del bagno Cioè, ma scusa un attimo Ma scusate Mi scusa Che cosa vede contro No, noi donna Non possiamo mancare Ancora C'è ora No, no, no C'è, infatti C'è 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 Se qualcuno Mese bisogna Dove li fa In mare Sì Vabbè, ma questa è arrivata Io so qui Anche Mi fa in mezzo Mi fa in mezzo alla paglia Ho messo il punto Poi sbaglio Camera Non lo vedo Nessuna capanna Del bagno È scappato Non ci credo Quella collezione per scappare Collezione per dirvi Vai Ma scappa È scappato Io sono io Sono io No, raga Basta però Ok, l'ultima partita Ultima partita Aspetta, vale Vale Fammi Fammi Dire Allora Io la C'è Tutta la mappa Tutto il tempo Nel bagno È vero Ma scusa Adesso mi spieghi Tu Tu Spettatore Tu che Spettatore Fammi vedere Dove era sto bagno Che non ho capito Dove era Allora Gianmi dove sei Vini qua Fammi vedere Do cavolo stava Dove stava Dai Vuoi vedere No kill me Please Ma che siamo Siamo Che dici Don't kill me Ma dai Era Tutto il tempo In questo bagno Io vi Dove Vi dare un consiglio Ma Si può Entrare Nel bagno Allora Io Sono Esatto Cioè Era Nella Non era Nella camera Era lontano Dalla camera Vai Lontanissimo Chiaramente Ma che Lontanissimo Ma sei Era qui No Ma Oh madonna Santa Oh madonna Santa Ma Giami Forse non stai Neanche Gappendo Con i tuoi Sessi occhi Oddio Violet Possiamo Essere Amici No L'ho Preso Eh va Adesso Sa dove Sei Vale Sa dove Sei Adesso Già Cominciato Eh vabbè Grandissima Va bene E niente ragazzi Quindi il video Finisce qua Spero almeno Almeno che vi sia piaciuto Purtroppo Non c'è Saieta Perché ha dovuto Abbandonare Vabbè Spero almeno Che vi siete divertiti E specialmente Vale anche per voi due Vale E Violet Giusto? Beh Certo Ho una pubblicità Da fare Ah vabbè Sentiamo Vabbè Va bene D'accordo Comunque dai Quindi questo video Può finire qua Fatemi sapere nei commenti Se volete altri video Di questo genere Anche in compagnia Del mio team Quindi mi raccomando Arriviamo a 10 like Per un prossimo video Di questo genere E attivate la campanellina Per non perdervi I prossimi video E le live Che farò In futuro Quindi Detto questo Dal vostro JamiGamer Vale E Violet E purtroppo Anche Ti ho salutato Praticamente Anche in video Vi salutiamo E alla prossima